Ciao, benvenuto al progetto Arena Swim Your Best, complimenti per la medaglia. Grazie. Mi chiamo Paolo Ricci, sono arrivato secondo nei 100 Farfalla e più nati italiani di categoria, nella categoria cadetti appunto. Dici qualche emozione prima e dopo gara. Ero un po' teso perché sapevo che gli avversari erano tenibili, però poi è tutto normale. E a chi dedichi questa vittoria? Ai miei allenatori e ai miei genitori che mi hanno sempre seguito, sostenuti. Buono, buono. Sai che potrei essere io il tuo tutor per l'anno prossimo? Sarei felice. Felice, va bene. Sei felice, concludiamo questa intervista e ci vediamo, grazie. Ringrazio il progetto Swim Your Best di Arena. Ciao. Ciao. Ringrazio il progetto Swim Your Best di Arena.